Il nome Bolkestein fa paura ai commercianti del Veneto. Mano a mano che l'annunciata rivoluzione nella circolazione di merci e servizi sul territorio europeo per promuovere la fiducia reciproca tra stati membri si sta avvicinando, il settore terziario a nord-est si organizza per gestire un cambiamento epocale che rischia di cancellare il mondo dei consumi e dei servizi che noi conosciamo. Da dicembre, data dell'entrata in vigore della direttiva, il piccolo bar, il negozietto sotto casa e i centri storici come li conosciamo noi potrebbero diventare un ricordo tanto quanto alcune comodità logistiche della periferia. Ed ecco perché i commercianti del Veneto vogliono dire la loro in sette convegni itineranti, il terzo dei quali si è tenuto a Vicenza. Nel momento in cui dovessero cadere determinate barriere, quindi ci fosse un'apertura smodata alle nuove attività senza nessun controllo per gli insediamenti, e quindi ecco perché mi riferivo all'ambiente per esempio, le cose veramente degenererebbero, dove andrebbero a finire le attività dei nostri centri storici, ma anche le attività di periferia. Se il controllo non c'è, evidentemente può accadere di tutto. Eppure le associazioni di categoria come oggi i commercianti non vogliono diventare la lobby del no, la lobby del non fare. Riconoscono infatti l'opportunità di cambiare, ma l'imperativo è incrociare le progettualità future del terzo settore con quelle del terzo Veneto, il modello di sviluppo cioè che la nostra regione sceglierà per il terzo millennio. Noi proponiamo innanzitutto, abbiamo formato un tavolo di discussione assolutamente qualificato, coinvolgendo la regione, coinvolgendo degli esperti che ci mettessero, del ministero, della nostra organizzazione per capire anche gli aspetti non solo giuridici, meglio, ma capire anche le prospettive, se ce ne sono per adesso. Perché purtroppo si ragiona sempre con tempi assolutamente ristretti e di fatto siamo in zona Cesarini, perché questa direttiva dovrà essere adottata entro il mese di dicembre. Voi capite bene che quindi c'era la necessità di capire veramente gli orientamenti, perché purtroppo nel nostro settore di sorprese ne abbiamo avuto sempre all'ultimo momento moltissime.